Acqua, animali, gestione dei rifiuti, qualità dell'aria e comunità energetica saranno alcuni degli argomenti di questa seconda edizione del Festival dell'Ambiente. Grazie agli enti, le istituzioni, alle rette associative del nostro territorio, alla consulta dell'ambiente che ha lavorato a fianco della nostra amministrazione. Tutelare l'ambiente significa prima di tutto impegnarsi in prima persona tutti assieme. Dal 29 maggio al 24 giugno l'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta organizza sette eventi presentando soluzioni concrete per la sostenibilità e coinvolgendo le giovani generazioni. Il Festival dell'Ambiente coinvolgerà tutti. Una rassegna di sette eventi che andranno a coinvolgere tutta la cittadinanza, dai più piccoli ai più grandi, sui temi della sostenibilità ambientale. Quello della sostenibilità è una sfida che deve vederci i protagonisti. Il Festival affronterà quindi altre questioni come le comunità energetiche rinnovabili, il corretto conferimento dei rifiuti e le buone pratiche nel rapporto con gli animali. Grazie. Grazie.